ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube adesso vado a fare questi baguetti le farò ho preso spunto da una ricetta di fulvio marino però ho cambiato cambiato qualcosa ho cambiato le farine ho messo i licoli naturalmente quindi di conseguenza cambiano anche i tempi di lievitazione adesso vado a mettere in autolisi le farine farina 0 e un po di farina 1 di tipo 1 quindi bagno tutta la farina con quasi tutta l'acqua controllo perché deve essere tutta bagnata quindi se serve metto ancora un altro pochino di acqua ecco qua vedete che sotto c'è ancora un po di farina asciutta quindi ci metto un altro goccino l'acqua mi regolo poi alla fine vi metto la dose giusta perché sapete che a seconda delle farine che usiamo ci può volere più o meno acqua la farina non assorbe tutta allo stesso modo quindi adesso copro e lascio in autolisi un'ora passato passato il tempo continuo continuo l'impasto a mano però tutto a mano peso di colici metto i licoli e lo peso ok ce ne metterò 70 75 grammi 70 grammi vanno bene ok e poi aggiungo ancora acqua e qui mi regolo con l'acqua mi sembra un po pochina adesso vediamo continuo finché posso con il cucchiaio e poi userò la mano impasto così l'acqua l'ho messa tutta però come vedete adesso quando metto il sale metterò altri 10 grammi in descrizione comunque trovate la dose giusta mettiamo adesso il sale naturalmente in passate perché io qui poi ho accelerato un pochino anche accorciato un pochino i tempi in passate per benino in questo modo e poi anche se l'impasto è ancora grezzo lo lasciamo riposare 30 minuti e continuiamo ad impastare fino a che non avremo questo risultato vedete con il riposo poi il glutine si forma si forma da solo diciamo quindi adesso faccio un altro giretto un altro giretto di pieghe così metto sul piano di lavoro l'impasto ci metto un po di farina perché ancora un pochino appiccicoso scusate la mia tavola che si sposta e lo lavoro un pochino così ok così aiuto vedete appiccino ancora un po ma va bene si è amalgamato pulisco la ciotola ci metto anche un filo d'olio e poi ci metto l'impasto che lascerò a lievitare ecco qua lo copro e lo lascio lo lascio all'incirca quattro ore ok allora passato il tempo come vedete non è cresciuto tantissimo ma procedo procedo per fare una preforma delle baguette faccio prima una preforma quindi divido l'impasto per in tre in tre per in tre parti ci verranno con questo impasto tre baguette quindi taglio così ad occhio e pressa poco non mi metto a pesare e ad aggiustare il peso no bene adesso metto un po di farina perché ancora un pochino appiccicoso quindi piego così faccio una sorta di panini ma ecco qua in questo modo quindi sono delle preforme che metterò a lievitare dentro un telo all'incirca altre due ore calcolate che fa ancora freddino è quindi regoliamoci con la temperatura con la lievitazione quando le vedo vedo questi questi pezzi belli gonfi sono pronti ecco metto un telo con un po di farina così e poi copro ok e li lascio li lascio tutto a temperatura ambiente adesso bene allora vedete che sono sono rievitati e quindi adesso vado a fare formo formula baguette è tardissimo quindi una volta formate le metterò in frigo dentro una busta voi regolatevi se iniziate la mattina per la stasera dovreste farcela di infornare ma io ho iniziato tardi e quindi farò questo passaggio in frigo allora vedete piego piego così stringo stringo un pochino sono ancora molto molto morbide devo dire ok e poi le allungo le allungo così alla fine io poi ho visto le allungate anche troppo perché poi ho il contenitore per metterle per cuocerle erano un po troppo lunghette quindi se le volete un po più cicciottelle fatele meno lunghe di come ho fatto io eccole allungo così e le stringo un pochino sulle punte ok una volta fatte poi le metto sempre in un telo metto la semola parecchia semola perché le vedo morbide sul canale c'è anche un'altra ricetta credo che l'avevamo fatta con il gruppo però presto a con diciamo che sono simili insomma anche forse un pochino il procedimento diverso quindi le metto così con il telo vedete con rialzato al centro così non si attaccano ok potrei anche lasciarle a temperatura ambiente però ho paura che poi mi vanno oltre quindi faccio questo passaggio in frigo domani mattina magari mi alzo presto le tiro fuori e vado a cuocere subito ci metto questo cestino così non si allargano e poi ci metto una busta ci metto una busta e le metto in frigo fino al mattino il mattino le ho trovate belle lievitate e adesso vedete ho messo un po di farina nella nell'ondulina e ce le metto dentro mamma mia sono morbidissime troppo lunghe vedete le ho fatte troppo lunghe non so se riuscirò a fare i tagli adesso vediamo se troppo lunghe se non avete questo questo contenitore le mettete direttamente nella carta sulla carta forno sulla pala e procedete faccio i tagli 55 tagli anche se possa affondare tanto perché sono talmente morbide in forno io poi ho riaperto un attimo io ho intagliato ancora un pochino di più ed eccole qua dopo in circa 30 minuti con il forno a 250 che poi abbassato a 220 beh direi sono venute bene adesso vediamo vediamo l'interno a bene amici avete visto non è proprio semplicissimo farle però nemmeno tanto complicato le avrei fatto un pochino più cicciottelle le ho allungate troppo direi quindi sono molto molto fine proprio come le baguette francesi e poi con questa farina che ho usato di tipo 1 magari forse mettendo qualche un altro tipo di farina soltanto con la zero e oppure un po di farina di farro come la ricetta che ho visto sarebbero venute meglio però guardate croccantezza viene voglia di mangiarle subito ecco qua dentro si possono farcire a piacimento ok bene amici vi ringrazio della visione se il video vi è piaciuto vi invito a condividerlo a lasciare un like a commentare e e vorrei che visto che non ho molte visualizzazioni in base agli iscritti vi invito a cliccare sulla campanella perché cliccando sulla campanella mi arrivano le notifiche del mio canale grazie mille ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video